Bella iniziativa a Camerino nei giorni scorsi con gli studenti del triennio del liceo scientifico che hanno partecipato numerosi al progetto Incontro con l'autore. Per dar modo agli studenti di fare proprio la conoscenza diretta con gli scrittori. È un'esperienza che abbiamo iniziato lo scorso anno e che ha riscosso successo. I ragazzi mostrano veramente un vivo interesse nel conoscere e rapportarsi con gli autori di romanzi, saggi. E quindi l'esperienza prosegue. Nell'ultima data, come vediamo, hanno incontrato la scrittrice anconetana Chiara Giacobelli, autrice di 101 cose da fare nelle Marche, almeno una volta nella vita, e un disastro chiamato Amore. Il suo testo è in un certo senso un invito a frequentare le Marche, la nostra regione e direi quindi il nostro territorio. Così duramente colpito, ma che ha necessità di riprendersi attraverso questi incontri, ad esempio, e scovando delle bellezze che per fortuna ancora ci sono, anche se una parte dei nostri centri storici, per quanto riguarda Camerino in particolare, è stata fortemente danneggiata. Ma abbiamo l'energia e tutte le risorse, anche naturalistiche, per poterci riprendere. Soprattutto ci sono, nel caso di Camerino in particolare, le istituzioni formative, università e scuole che si stanno veramente dando da fare e facendo di questa attività, che è lo studio, il fulcro per la ripresa. A partire da una storia leggera, romantica e umoristica, hai in realtà tanti spunti legati alla paura, al fallimento, all'immaginazione. Quindi è un'occasione per dare degli stimoli anche a dei ragazzi più giovani che costituiscono un target ottimo per il romanzo. Grazie a tutti.